Salve a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo video su Dragon Ball Z, Budokai in Tenkai C4 Quest'oggi ragazzi andremo avanti nel combattimento Quindi andiamo subito a vedere un po' la situazione Allora, l'ultima volta ragazzi Avevo notato che nel combattimento avevo un'impostazione abbastanza difficile Infatti era, che è solo modificato Qui era very hard Molto difficile Addirittura già mi trovo in difficoltà con molto difficile Immaginate con il livello Z Quindi faremo subito normale come l'ho impostato E andiamo avanti così Vediamo se è impostato, ok Bene, adesso forse potrò vincere qualche battaglia Quindi andiamo subito a single player Secondo me ragazzi è più bello giocare con vari personaggi tutti insieme Allora questa volta utilizzeremo Questa è bella proprio Come primo personaggio Poi Kid Goku Cercheremo di utilizzare tutti i bambini Kid Gohan Chi c'è più? Ah sì, la piccola Cici Cici da bambina Poi un altro che c'è? Vabbè sappiamo che chi è piccolino Questo qua anche è piccolino però E nonno di Gohan Perché no? Dai ragazzi dovremmo fare questo qua Sì Sì, nell'arena di Sè Dai facciamo questo qua Ragazzi se volete altri video come questi Fate il mostro per i miei commenti Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto Mi raccomando ragazzi Condividete questo video con i nostri amici Per supportare il mio canale Quindi andiamo a vedere un po' questi personaggi particolari qua Che non ho mai utilizzato E vediamo anche nella modalità normale Come si definisce il combattimento Oh mamma mia Questi sono gli attacchi di Arale Ok Ma comunque preso Oh ma quasi bruciato gli occhi Tieni Questa è la cacchina Ah vero che Arale non si può caricare Perché è un robot Ah di attacchi un po' particolari Sì Oh mamma mia Super calcio nel cosiddetto dietro Cosa ho fatto? Eh? Non ho capito cosa ho fatto Comunque ok 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 presa Non fa nessun attacco no? No non fa niente ragazzi Da solo calcio lei Ok abbiamo visto un barale Oh mamma mia Allora cambiamo personaggio Ecco qua Piccolo Goku A Goku dovrebbe già fare qualcosa di match Ah ha cambiato anche lui Oh Sazzo carta forbici qua Oh bella la cammela di piccolo Goku Carichiamoci Eh dai fatti colpire Bella ho preso Forse potremmo vincere questo duello Ragazzi visto che la modalità normale Dove farcela Oh oh Se lo scriva pure Anche la modalità normale Se lo scrivono per bene Cioè combattono bene Aia Benedetto piccolino Di colpire la trezza Però Oh si dai Massimo potenza Ah non mi ha preso Oh ha cambiato un altro personaggio E qui c'è Super combo infinita Oh cosa voleva fare? La sua più energia No me l'ha fatto lui Come l'attacco supremo di Gogo non c'è Oh mamma mia Oh mi ha distrutto Mi ha distrutto Con il piccolo Goku Ok Gohan Deve essere all'altezza Ma questa qua è una scherza eh Compa nel momento Allora Anche a modo di tempo normale ragazzi è difficile Perché la giro che mi sono io Ha rugginito qua Ok breccato indietro Ah vieni qua vieni Vediamo se riesco a prenderlo Oh la l'ho preso Eccolo Gohan scatenato Mamma mia Fuori uno Oh sono riuscito a sconviggere almeno un avversario Oh oh si trasforma lui Invece noi non ci possiamo nemmeno trasformare E siamo già in sbandaggio noi Toccato Ah Not this Oh Ecco concentrazione Ah l'ho distrutto Ok siamo fuori due Vediamo chi è l'ultimo Ah questo qua è vero Forse combatte pure Che cosa ho fatto? Mamma mia cosa ha lanciato un cannone? Ah mi ha preso Nooo Mamma mia Che becca di questo Becca di questo Questo cannone qua Oh ma è resistente Per essere uno debole Ma ce la fanno? Ce la fanno? Sì Ah no Mi ha preso Con l'angerazzi Ok Cici Ok Cici Oh sta tendo Cici Oh Piccola bambina Cici è già Oh tutti si è schivate Bravissima Bravissima Bella Mamma mia Siete una bella compo Oh spostiamoci Tiè Tiè mi blocchete questo Tiè mi blocchete questo No Cici Dove sta dove sta dove sta dove sta dove sta dove sta dove lo vedo Oh Ah meno male Ah meno male E' forte tu Ah Siamo queste scrivate Meno male Vai carichi Carichi E quello è pericoloso Ah ecco mi ha fatto Z al counter Non so come cavolo faccio Non ho No Mi ha fatto No Troppo difficile ragazzi Anche a livello normale E' anche difficile da giocare Meno ma tendo Perché c'è il nonno di Gohan E di Goku Oh Bell'attacco Via Meno male che non mi ha preso Meno male che non mi ha preso Ah l'ho distrutto E' così concentrato Ah ecco Fatti solo Dovebbe essere l'ultimo personaggio No non lo è Non lo è Ah non l'ho preso E non lo farei caricare così Ecco Bella presa Del nonno Gohan Ah Ten out E' finito pure il tempo Oh signori Abbiamo finito Abbiamo finito Un incontro intero Finalmente Ragazzi Finalmente Bene ragazzi Come avete visto E' andato bene Mettendo la modalità normale Sono riuscito almeno a sconvincere Tutti i team Di Della banda dei piccoletti Quindi ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Vi ricordo sempre Di lasciare un bel pollicione L'inzù sotto il video Di commentare E condividere questo video Con i vostri amici Noi ci beccheremo Nel prossimo video Con un nuovo Dragon Ball Z Butto Kite In calci 4 Sul mio canale Quindi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao Ciao